Cari telespettatori buonasera diamo subito il via a questa ultima puntata di Primo Cittadino una stagione che chiudiamo con il sindaco di Fano Massimo Seri. Buonasera sindaco bentornato. Buonasera buonasera a tutti i telespettatori. Diamo subito i numeri di telefono di riferimento 0721 86 14 33 per parlare direttamente con il sindaco oppure 338 49 68 250 per i vostri messaggi. Sindaco abbiamo parlato anche nel corso del nostro telegiornale e ricordato Don Pier Giorgio Giorgini purtroppo Fano piange la sua scomparsa un parroco molto amato e che ha portato avanti anche diverse battaglie nella città. Sì è una perdita che ha colpito tutti sapevamo che stava male, stava lottando con una malattia, però quando arrivano queste notizie colpiscono sempre. Giustamente come è stato ricordato era un parroco che ha dato tutto se stesso per la sua comunità, lo ha fatto anche in modo garbato in punta di piedi, con un fare gentile, con forte sensibilità, facendosi carico anche di questioni che riguardavano anche la comunità che lui rappresentava, dalle problematiche anche sociali, ambientali, l'abbiamo visto come rappresentante anche di alcune battaglie di tutela del territorio. Ha lasciato anche una presenza fisica, non dimentichiamo che ha donato anche una struttura l'oratorio, la casa che accoglie i ragazzi per fare la dottrina, per le attività anche ricreative, quindi conferma di quanto sia stato legato alla parrocchia di San Cesario, ma soprattutto è una persona che era voluta bene, c'era quel sentimento sincero, quindi sia da sindaco sia, poi abito in quella zona, quindi sento di esprimere la vicinanza, l'affetto anche come sindaco e rappresentanza della città, una perdita importante proprio per il ruolo, il servizio che ha portato e come lo ha svolto. Andiamo avanti con il Covid, sindaco facciamo un attimo il punto della situazione, proseguono le vaccinazioni per quanto riguarda i contagi, il nostro comune rimane comunque la situazione sotto controllo? Sì, le cose stanno migliorando sotto gli occhi di tutti, è chiaro che ancora la pandemia è presente, però siamo in una fase calante e anche le attività di vaccinazione stanno andando avanti, devo dire anche che c'è un'ottima organizzazione per quello che riguarda Fano. L'invito che faccio, adesso che possono essere tutti che possono fare il vaccino, anche i quarantenni, di prenotarsi, più sono giovani meno sono portati a fare il vaccino, io stesso l'ho fatto la settimana scorsa, ho prenotato e devo dire anche sotto questo aspetto c'è stata un'efficienza esemplare e diventa importante perché dobbiamo raggiungere un'unità di gregge e la vaccinazione è l'elemento che ci favorisce in questa direzione. È chiaro che poi l'arrivo dell'estate agevola le cose, ma dobbiamo evitare che dopo aver passato l'estate si ritorna al punto di partenza come è avvenuto dopo l'estate scorsa. L'avvantaggio rispetto allo scorso anno è che ci sono i vaccini, tantissime persone già sono state vaccinate, continuiamo ad avere quella prudenza responsabile che ci aiuta a tenere lontano il Covid, ma soprattutto l'invito che mi sento di fare, chi non l'avesse ancora fatto, di prenotarsi per vaccinarsi. Ci stanno arrivando già tantissimi messaggi, però vorrei farla rispondere intanto sul servizio che abbiamo mandato in onda nel corso del telegiornale, perché oggi abbiamo raccolto l'appello che è stato lanciato al Comune da parte di alcuni familiari dei malati di Alzheimer, ma anche di due associazioni, rappresentanti di associazioni che chiedono la riapertura del centro di automuto aiuto, visto che comunque questa sede è stata donata, ci hanno raccontato dalla Fondazione Carifano al Comune, è possibile riaprire questo punto di riferimento importante per loro? Sì, io ritengo che non si debba neanche porsi il problema, quello è uno spazio attraverso una convenzione data da chi lo gestisce e che deve essere poi messa nella disponibilità di queste associazioni e ho verificato e fra l'altro anche i giorni scorsi ho avuto modo di incontrare questi rappresentanti delle associazioni che abbiamo posto questo problema, vi ho preso anche l'incarico di fare delle verifiche, cosa che ho fatto, mi hanno spiegato che adesso va rinnovata la convenzione e questo è come giusto che sia, anche come era previsto in passato, che sia messa a disposizione questo spazio per l'attività di queste associazioni che ovviamente svolgono un servizio per la collettività. Le chiedono se verranno terminati i lavori alla rotatoria di Ponte Metauro vista la situazione di degrado da Metauriglia a Torrette fino a Ponte Sasso? A quale si riferisce? Adesso mi sfugge. La rotatoria di Ponte Metauro, lì c'è stata installata, insomma una grande insegna, no? Ah sì, 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 sì. Però se deve essere completato... No, allora, purtroppo la burocrazia e anche l'intervento delle persone alcune volte diventano un ostacolo. Lì è stata installata quella scritta, poi c'era stato un contenzioso con un artista che voleva porre una sua opera e quindi ha fatto un ricorso al tribunale e aveva bloccato qualsiasi altra azione. Quella parte è superata fortunatamente, adesso è proprio una questione recentissima e cerchiamo di ragionare per renderla anche esteticamente parlando bella, c'è il logo della città di Fano, ricordo però che quella è una rottoria non gestione dell'amministrazione comunale ma di ANAS, però con ANAS ovviamente si dialoga e l'obiettivo è quello di sistemarlo, però non potevamo farlo prima proprio per questo ricorso che c'era stato. Ci dicono che dopo la segnalazione del febbraio scorso, 19 di febbraio, non è cambiato nulla per quanto riguarda la croce in ferro in zona falcineto che è sempre piegata a Storta? Guardi, penso, non so se oggi sia stato ultimato ma ci stavano lavorando in questi giorni sia per quello che riguarda i due ponticelli di falcineto e di cucurano, croce compresa, quindi se non è stato fatto oggi è questione veramente di ore perché mi risultava che ci stessero lavorando proprio in questi giorni. Ci chiedono se pensate di realizzare una rotatoria a Fosso 6 ore, io credo all'altezza del sottopasso? No, lì non è prevista una rotatoria, fra l'altro non potremmo neanche farla noi perché parliamo di un tratto a confine tra Fano e Pesaro, dovrebbe esserci una convenzione tra le due città, vabbè questa non è una cosa impossibile, però al momento anche con Anas perché quello è un tratto anche di loro competenza, però al momento non c'è una previsione di una rotatoria in quello spazio. Cominciamo anche con la lista delle strade, ad esempio ci segnalano la strada comunale, quella che riguarda il cimitero di Bellocchi a Rosciano. Nei giorni scorsi invece abbiamo mandato in onda un servizio raccogliendo l'intervista di diversi cittadini, insomma residenti e commercianti della zona del prelato e ci sono arrivati dei video anche da parte di turisti italiani e stranieri. Vorrei riproporle una breve intervista. Pesaggio. Abbiamo percorso da Fano la strada che passa dal, non so se paesino o la frizione di Centinarola e non siamo arrivati in fondo perché la strada è totalmente impercorribile, bucche gigantesche, tenuta malissimo, tutto l'asfalto ammalorato, non c'è un tratto percorribile in sicurezza. Tra l'altro abbiamo anche delle auto notevoli insomma dal punto di vista di ammortizzazione, uno è un SUV quindi anche con delle gomme molto molto importanti ma nonostante questo veramente abbiamo rischiato di fare dei danni all'auto. Come avevo detto non siamo arrivati in fondo, siamo tornati indietro ma a queste condizioni non penso che verremo più. Ci dispiace perché Fano Centro è molto carina, il mare e anche la ristorazione per noi anche dalla Romagna è molto appetibile. Grazie dell'attenzione. La signora Isabella è residente nella provincia di Forlì, è venuta circa due settimane fa a Fano con un gruppo di amici e si è trovata in quella situazione come lei e anche altre persone. In realtà la strada che conduce al prelato, cioè non soltanto quella da Centinarola ma anche quella da Finile e purtroppo sono entrambe molto rovinate. Prevedete di asfaltarle? Intanto vorrei dire che Fano, adesso mi sembra ingeneroso descriverla come una città bombardata dove ci siano crateri. Fano è una città che ha oltre 420 chilometri di strade. Vorrei ricordare i servizi che facevate quando mi sono insediato sette anni fa, sei anni fa da sindaco e era un bollettino di guerra quotidiano. Da allora sono state asfaltate 110 chilometri di strade nella nostra città. Non sono poca cosa e non è mai accaduto nella storia di Fano che in un periodo così breve si facessero interventi così importanti. Poi è chiaro, ci sono le strade più periferiche dove hanno un traffico limitatissimo che ovviamente sono scesi nella graduatoria delle priorità. Detto questo, non vuole essere una giustificazione, noi abbiamo già una programmazione. Fra poco, metà giugno partiranno delle asfaltature, fra l'altro quindi comunicherò alcune vie nella zona di Sant'Orso, ci saranno alcuni interventi per esempio anche in centro, in alcuni quartieri, alcuni vicino il mare, alcune strade mi viene in mente perché qui in più occasioni era stata sollecitata quella che dal cimitero urbano va verso via Le Kennedy, quella molto utilizzata da chi va in bicicletta verso il centro, verso il mare, verrà asfaltata e sono tutte opere che faremo a brevissimo. Quindi sono circa un milione di intervento di asfaltature, è un elenco abbastanza importante. A queste si aggiungono in programmazione, però devo dire non è che siamo in grado di farle nell'arco di un paio di mesi perché dobbiamo appaltarle, dobbiamo progettarle, abbiamo già destinato le risorse e quindi compresa questa del prelato, la zona di Monte Giove e tante altre strade secondarie richiamate in più occasioni, però ecco dobbiamo essere consapevoli perché tanto è inutile nascondersi dietro un dito. Abbiamo delle tempistiche che vanno oltre alla nostra volontà, ogni cosa sono le persone che lo fanno, qui è anche una città che protesta su tutto, anche sugli accordi quadro per far fare le progettazioni, per questi sono i risultati. Allentiamo, quando noi facciamo delle proposte, le facciamo con cognizione di causa, noi siamo in una fase in cui con le piante organiche che abbiamo, se produciamo per 50 persone e sono in 10 a lavorarci, inevitabilmente si allungano le tempistiche, poi ci sono la burocrazia che richiede i suoi tempi, purtroppo lo dico perché riguarda anche noi, non soltanto i cittadini, però vorrei dire che faremo una serie di interventi da qui alla primavera prossima, compresa, quindi ultimati nella prossima primavera, importante, quasi tra tutti più di 3 milioni di asfaltature e quindi tutte queste segnalazioni troveranno la giusta risposta. Sulla passeggiata della Sassogna continuano a squarazzare le bici incuranti del divieto ma anche dei pedoni, c'è un pericolo per i bambini. Dovremmo avere però, Sindaco, una telefonata per lei, pronta? Buonasera, ci sente? Pronto, mi sente? Il Sindaco è qua che l'ascolta. Sì, buonasera. Buonasera, signor Sindaco, sono un cittadino di Carignano, le volevo dire una cosa, poi le do un consiglio se posso, se è partibile. Siccome, come diceva lei, la segnalazione delle buche, poi bisogna appaltarle, ma la lunga... Se il comune assume due persone con un camioncino che hanno il lavoro tutto l'anno, lei si ritrova le buche sempre chiuse, tutte le strade a posto e dà il lavoro a queste due persone, due famiglie che oggi c'è ancora chi ha voglia di lavorare, voglio dire, con un camioncino, hanno il lavoro tutto l'anno, ecco, se è fattibile è tutto lì. Guardi, intanto le dico in quell'elenco a cui facevo riferimento ci sono anche le strade di Carignano, adesso mi sfugge il nome, ma tutte le riunioni che ho fatto a Carignano me le hanno sempre evidenziato, anche quella sarà nell'elenco. Quel tratto che mancava all'altezza più o meno della chiesa, ok. No, 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 è proprio quella strada lunga, anche quella in condizioni pessime, anche quella rientrerà in questo lungo della guazza, per quello che riguarda gli operai, purtroppo gli ultimi sono andati in pensione, non siamo in grado con le forze interne di dare una risposta efficiente alle esigenze che ci sono, noi ci affidiamo a delle dita anche del territorio che fanno il pronto intervento e sono abbastanza efficienti. Poi è chiaro, quando le stagioni delle piogge si prolungano inevitabilmente creano maggior disagio, perché gli interventi, quelli lì quando si vanno a chiudere le buche, per essere così semplice nella descrizione, però con le prime piogge si ricreano, vanno a ricreare il problema. Il vero intervento è una manutenzione straordinaria come quelle che abbiamo fatto sui 110 km di strade e su quelle che faremo da qui al prossimo anno. Vicino a Via del Perugino c'è un parco giochi, ma questi giochi appunto sono rovinati, anzi sono stati tolti tre anni fa e ancora devono essere ripristinati. Anche su questo mi piace sottolineare un aspetto, perché dopo non ci si fa caso, perché passano giustamente, non so se è sempre giusto, però la polemica, la cosa che non va è sempre sotto l'occhio del ciclone, le cose che si fanno, una volta fatte si gira pagina e si riguarda il resto. Però ecco, in tutti i quartieri stiamo facendo interventi importanti, c'è una programmazione che riguarderà tutti, anche adesso andremo a fare delle nuove inaugurazioni, abbiamo fatto nuovi interventi, altri ne avevamo fatti gli anni passati, ne faremo degli altri, perché parto dal presupposto che la qualità della vita si misura nei quartieri dove viviamo, il centro e il mare hanno la loro importanza. Poi parleremo anche dei quartieri che sono arrivati anche in casa. Sì, allora mi fermo qua. Perché abbiamo un'altra telefonata per lei, buonasera, chi è in linea? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e due. Grazie, allora io sono Rita, dunque io telefono per segnalare, ancora una volta perché è già stato fatto, il nostro punto di strada, adesso vi spiego, dunque noi abitiamo in via Gentile da Fabriano, che siamo sotto al cavalcavie della stazione per andare verso il Lido, mi sono un po' stigata più o meno. Sì, 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 sì. Quella stradina lì sotto, noi praticamente abitiamo nel Cancello, usciamo dal Cancellino, vengono giù talmente forti le macchine che noi abbiamo paura di uscire dal Cancello, perché è proprio a due passi dalla fine della strada che poi porta per gli orti, insomma. Allora noi chiediamo, io parlo anche per i condomini, che è possibile fare qualcosa per far sì che le macchine possano rallentare, perché noi usciamo con i passeggini che siamo nonne, i bimbi vanno a scuola con la bicicletta, è molto pericoloso, allora noi abbiamo tanta paura perché se è possibile magari fare, non so, quelle giunette che si rallenta, qualcosa che possono venire giù un pochino più piano, questo chiediamo a gran voce. Sì, allora adesso la soluzione immediata non ce l'ho, però ha perfettamente ragione, noi parliamo delle zone 30, le zone dove ci sono pedoni, dove c'è una maggior frequenza di persone, ovviamente vicino ai centri, ci deve essere una tensione particolare, avete visto in alcune zone, se mi viene in mente la trave, abbiamo fatto interventi per far rallentare le macchine. Anche se in realtà è più pericoloso così che nel senso di restringimento. Però per rallentare l'unico sistema, perché altrimenti è inutile che ci, bisogna mettere un autovelox, poi dopo nascono altri problemi, non sempre questo è possibile. Quindi l'alternativa è quella delle barriere fisiche che portano a rallentare le macchine e chiaramente quando si rallenta poi possono creare anche qualche ingorghi, adesso qui non parliamo di ingorghi, però se si rallenta e si mantiene una velocità bassa, senza fermarsi la velocità funziona. Poi qui parliamo veramente di pochi secondi di differenza tra l'andare più veloce e meno veloce, perché non è che siamo in autostrada o una strada a forte velocità. siamo nei centri e aumentare di 10 km orari non fa la differenza per il raggiungimento del posto che ci siamo dati, ma fanno la differenza sulla sicurezza. Sindaco, la settimana scorsa è stata sistemata la pavimentazione nel parcheggio di via del risorgimento. Li facciamo vedere un video che ci è arrivato. Questi sono i lavori fatti per il ripriso del parcheggio in via risorgimento dietro alla polizia. Guardate, sempre col breccino, col verone che non vi dico che arriva fino nelle case in via roma, e questo è tutto il lavoro svolto in due giorni, tre giorni. Alla prossima pioggia che verrà, questo sarà stato un lavoro tutto inutile. questo è il lavoro che è stato fatto per ripristinare tutte le buche causate dalla pioggia, e ciò secondo me è tutto un lavoro fatto inutilmente. Sì, guardi, ringrazio a questo signore per aver segnalato questa situazione, perché mi dà modo di spiegare. Allora, via risorgimento è un altro di quei cantieri aperti dove noi abbiamo un progetto già finanziato, siamo al progetto di fattibilità, stiamo attendendo l'esecutivo per poi fare il vero intervento di riqualificazione, sarà un parcheggio ordinato con una pavimentazione, con alberi, pianteremo degli alberi, e diventerà un parcheggio a disposizione del centro storico. Le tempistiche sono quelle che sono, c'è stata un'osservazione della sovrintendenza, adesso il progettista ha dato le risposte, ha trovato la soluzione ai quesiti che poneva la sovrintendenza, per cui, questione veramente di poco, arriverà l'esecutivo e appalteremo il lavoro. Questo è un intervento, in realtà è un piccolissimo intervento, si è messo alla breccia per evitare che ci siano le buche, sappiamo, eravamo consapevoli, ma una soluzione alternativa non c'è, l'alternativa era quella di lasciare le buche, noi sappiamo che quando si mette il breccino, come in questo caso, risolve, migliora la situazione, in attesa che facciamo l'intervento di riqualificazione, ripeto, noi siamo pronti, con le tempistiche... Nei prossimi mesi, prossimo anno? Allora, il progetto c'è già, c'è stata una situazione dalla sovrintendenza a cui abbiamo dato risposte, i progettisti, quindi l'esecutivo è conseguente, è il lavoro di un mese, poi c'è la gara d'appalto, le tempistiche, il RUP da nominare, però è uno di quegli interventi, ma nella stessa situazione, noi abbiamo già previsto, il foro Boario lo risistemeremo tutto, il parcheggio a Sport Park, il parcheggio dove c'è il pronto soccorso dell'ospedale, io non vi voglio dare meriti, però un merito ce l'ho, di aver creato tante di quelle situazioni, e di aver portato tante di quelle risorse in questa città, ho un demerico portato troppi lavori che non riusciamo a dar seguito, ma dico anche, ne arriveranno tanti altri, perché adesso abbiamo già, ho già delle anticipazioni, poi ho un'abitudine, non annuncio finché non ho la certezza in tasca, ma abbiamo pronti già investimenti per oltre 10 milioni di nuove opere che si faranno, che magari non vedrò io il taglio del nastro, lo lascerò al singolo sindaco che seguirà, però ecco, questo è un merito che mi porto dietro, perché la bravura non è quella di fare le cose, perché quando si hanno i soldi sono tutti bravi, la bravura è trovare le risorse che non arrivino dalle bilanci comunali, perché le nostre capacità sono quelle che sono, e quando dicono c'è stato un avanzo, in realtà quell'avanzo è studiato, perché se devo fare un'opera bisogna che metti i soldi da una parte, perché se li spendo prima poi quella non la faccio più, se parliamo del waterfront tra Fano e Torrete, Ponte e Sasso, e se li spendo poi non, quindi sono tutte calcolate queste cose. Tornando ai parcheggi, anche su questi raddoppieremo quello in Viale Kennedy, quindi sono tutti lavori in essere, con le tempistiche e le capacità di produzione delle persone che abbiamo, a cui devo anche ringraziarle, perché abbiamo la struttura sotto stress. Ma non sono possibili nuove assunzioni? Eh, le stiamo, ma non è che arrivano, quello che sfugge, non è il privato che io dico ho bisogno di due persone, vado e assumo, noi no, abbiamo delle procedure, abbiamo dei limiti, adesso sono usciti dei concorsi per alcuni servizi, adesso c'è il concorso anche per il nuovo dirigente dei lavori pubblici, che è un altro servizio strategico, ci avvaliamo anche delle forze esterne dove è possibile, però anche su questo dobbiamo fare procedure, è sempre un rincorrere ai tempi, però ecco, vorrei tranquillizzare i cittadini, che non è che siamo qui a far dispetti, certe volte sono scelte come queste via risorgimento, io capisco perché è la stessa cosa che direi anch'io se mi trovo da quella parte, però se chi segnalava questa cosa si trovasse a fare il sindaco penso che avrebbe fatto la stessa scelta. e cioè quella di rendere vivibile in questo istante, perché non è che sono interventi quantitativamente parlando costosi, sono mini interventi, sapendo che quello verrà un bellissimo parcheggio e ce ne sono, come dicevo, anche altri, che rendono anche più bello la zona. Un'altra telefonata per lei, giusto regia? Sì. È in linea. Buonasera. Sì, buonasera, salve. Buonasera. Prego. Buonasera, come sindaco, io mi chiamo Biagioli Mauro, del comune di Terra Runeriesche, precisamente del municipio di Bari. Sì. Io crediamo che i nostri cittadini sono totalmente in attenzione per le ultime dichiarazioni rilasciate dal suo assessore Mascarini in merito al biodigessore che si dovrebbe insediare in località Cara Faneto a Bari. Come spero saprà, le problematiche che tali impianti possono portare nella nostra zona da tutti i punti di vista e soprattutto l'ubicazione totalmente assurda di quell'impianto all'interno di una zona agricola ha praticamente provocato grandi paure e nervosismi all'interno della popolazione locale. Quindi come Presidente del Comitato che si è formato abbiamo già diffidato la provincia per interrompere il procedimento e soprattutto volevamo avere un incontro anche insieme all'amministrazione di Tereo Veresche come lo saprà, è espressa in maniera nettamente contraria come anche i comuni di Mondavio e Fraternosa e quindi non riusciamo a capire come mai il comune di Fano continui ad avere comunque rapporti per un eventuale participo con la ditta che dovrà andare a costruire nonostante un ente pubblico dovrebbe avere tanto rispetto per gli altri enti pubblici perché un'opera che voi andate a fare in un comune che non è il vostro dovrebbe avere soprattutto il parere favorevole del comune interessato ma soprattutto dei cittadini che abitano in quel comune. E' d'accordo con le dichiarazioni rilasciate? No, intanto ci sono alcune imprecisazioni nel senso non è il comune di Fano che fa un impianto, è un privato che ha avviato una procedura di autorizzazione in base alle normative che ci sono. Noi abbiamo avuto un incontro con questi poiché sia Ferronia a cui fa riferimento il signore ma anche altri ci hanno chiesto gli incontri che noi abbiamo avuto, ci hanno presentato le loro attività però non è che è il comune di Fano che fa una scelta e un'attività di questo tipo. Poi c'è un tema più ampio che è quello del biodigestore che è un impianto importante e necessario per il nostro territorio. Va detto, e su questo io poi sono stato in mezzo a tante polemiche, che il biodigestore è un impianto che non crea nessun problema, non ha incidenze, sono andato a vedere un impianto fatto molto bene e in odore, parliamo dell'erba tagliata, della forsu e dell'organico che è chiaro che se lo lasciamo a casa dopo prende un odore e fa il percolato ma in questi impianti sono, ripeto, in odore sigillati per cui non vedo, va detto per quel che è, dopo le polemiche portano anche informazioni che preoccupano e spaventano le persone, quindi su questo vanno tranquillizzate. Io sono dell'idea che debba esserci un impianto biodigestore nel territorio provinciale, dovrebbe essere un impianto per tutto il territorio condiviso tra le due società di servizi, ASET e Marche Multiservizi, perché poi sono le società di servizi che lo vanno a realizzare attraverso loro procedure, non sono i comuni che fanno interventi di questo tipo. Però qua poi c'è il gioco della politica, le divisioni, un po' di demagogia che rende tutto più complicato, il risultato ad oggi è che noi andiamo a portare questo materiale a Ravenna e non penso che a Ravenna siano più arretrati di noi, anzi colgono questa occasione. Quindi è un costo per noi in questo caso? Non è un costo, è un costo altro e tende a salire. Faccio solo questo dato, noi siamo passati, ma riguarda anche gli altri comuni, poi tutto in proporzione in base agli abitanti, da 80 euro a tonnellate a 120, ma è per salire, aumentare e questo va sulle bollette poi dell'Atari e delle famiglie. Quindi avere un impianto significa autogestirsi, calmirare il prezzo, tenerlo, contenerlo e quindi avere un risparmio. È chiaro che va fatto nel luogo più indicato, su questo per quello che riguarda la mia sensibilità, io l'ho detto in più occasioni, andrebbe fatto in quelle zone dove si vanno a recuperare, dove magari ci sono già delle strutture esistenti in degrado che vanno riqualificate. Sono due anni, le scrivono che non si taglia l'erba nella strada che parte dalle terme, quindi a Carignano arriva al paesello. Poi in tanti ci stanno chiedendo informazioni sui lavori di Viale Piceno e che riguardano la realizzazione della Coppa e i sottopassi, quindi se proseguiranno, se ci sono delle novità. Sì, uno è quasi ultimato, se non ultimato. L'altro ha avuto dei problemi, più che problemi insomma con RFI, di autorizzativi, poi lì perché passavano dei sottoservizi, c'erano delle complessità, quindi dovevano trovare una formula insieme a DASER per spostare i sottoservizi. Quindi uno è finito e l'altro aveva queste complessità e per cui andava trovata la soluzione, che non era banale e scontata. Però siamo in via di definizione dell'aver individuato la soluzione. Un altro messaggio un po' lungo, però insomma c'è una persona che si vuole togliere qualche sassolino dalla scarpa. Ho sostenuto e votato la sua coalizione le ultime amministrative, con convinzione è considerato anche l'ottimo lavoro che è stato fatto nella precedente legislatura. Dopo due anni sono profondamente deluso e arrabbiato e come me lo sono anche tanti altri cittadini che lo hanno votato. In questo lasso di tempo, la sola cosa di cui si è parlato e discusso, sono le linee blu, quindi ci riferiamo ai parcheggi a pagamento e poi torneremo anche a parlarne dopo la pubblicità, con le quali state colorando un po' tutta la città. Si è cominciato nel 2019 con via Le Gramsci e poi mano a mano anche sul lungomare. Le risparmio, ci dice il telespettatore, per educazione i commenti sotto gli ombrelloni. Ma le voglio fare una proposta. Perché non invita i suoi assessori a fare ogni tanto un giro per i quartieri di Fano? Vrebbero così modo anche di rendersi veramente conto di quale sia la situazione di strade, ma anche piste ciclabili, traffico, marciapiedi e decoro. Perché non esiste solo il centro storico per il quale giustamente si deve fare il possibile. Mi auguro che presto si comincia a pensare anche a queste situazioni, altrimenti ci scrive, alle prossime elezioni consegneremo giustamente la città, la destra, come è avvenuto in Regione. Sì, lo ringrazio. Un po' piccante. No, ma ci vuole, perché è giusto che sia così. E ascoltando queste parole, sono tornato indietro di cinque anni, precisamente al secondo anno del primo mandato. E i commenti erano questi, nei miei confronti, delusione, non si fa niente. Io ci soffrivo, perché in realtà sapevo i semi che avevo piantato, un po' come in un campo, si ara, si semina, poi bisogna aspettare che la pianta esca. Quando esce uno vede il frutto. Però c'è quella fase dove non si vede nulla e chi si aspetta è deluso. E tu ci soffri, perché dici, come? Sto facendo questo, questo e questo. E tu ti rendi conto e gli altri non ti seguono. E qui è un po' la stessa cosa, in questa fase. Con un aggravante, che c'è stata la pandemia, che ha ralentato molte cose. Siamo in una fase di ultimazione dei cantieri partiti. Purtroppo le tempistiche del pubblico sono queste. e che vedranno la luce a breve. E poi c'è tutta una serie di cantieri che partiranno, di interventi che partiranno. E concordo con il signore che ha scritto questo email, questo messaggio, sui quartieri. Lo dicevo prima. I quartieri sono l'elemento della qualità della vita. Io quando ho deciso di candidarmi, ho detto io voglio in ogni quartiere uno spazio pubblico attrezzato. Ci stiamo arrivando. E proprio in questi giorni inaugureremo nuovi spazi dei quartieri. Gli sgambatori. Ma io poi mi segno, perché poi ci dimentichiamo, tutte le opere che stiamo facendo quartiere per quartiere. Non ce n'è uno in cui non si sono fatte cose significative. Ma ce ne sono tante in cantiere. Ripeto, adesso abbiamo avuto anche la capacità di avere ulteriori finanziamenti che ci porteranno a fare nuovi interventi. e li riguarderanno quasi tutti i quartieri. Alcuni hanno già avuto tanto, più di altri. Poi questo è inevitabile. Quello che si fanno delle scelte prima da una parte rispetto ad un altro. Però ecco, concordo con la preoccupazione e l'invito e il messaggio che il signore mi rivolgeva. Posso dire che io vedo tutti i semi che ho piantato e li riconosco che inizieranno a germogliare. Alcuni non riuscirò a fare il taglio. Noi sindaci, la nostra soddisfazione è quando tagliamo il nastro. Però è anche la soddisfazione quando lo facciamo tagliare ad altri. Che grazie all'opera che abbiamo fatto arriveranno altri interventi. Quindi vedremo comunque dei tagli del nastro? Sì, ne avremo in questi anni. Ma ci saranno delle opere straordinarie. E mi ero preso un impegno con me stesso che volevo che in questi dieci anni e quelli che seguiranno poi però con l'impostazione data si sarebbe cambiato il volto di questa città. E stiamo andando in quella direzione. Perché alcune cose ancora non si vedono. Il waterfront. Cioè, il 14 scadeva la tempistica per presentare i progetti. Non so quanti ne sono arrivati. Non me l'hanno comunicato ma so che sono arrivati. Anche questo. Adesso nomineremo la commissione. Dopo fine estate vorrei arrivare con l'individuazione del progetto aggiudicatario e iniziare subito per arrivare al 2023 fine 2023 con l'inaugurazione degli interventi sul waterfront Fano e Torrette, Ponte e Sasso. Quindi ci sono tutta una serie di interventi importanti che daranno soddisfazione e orgoglio alle persone, strade comprese. Torneremo a parlare di parcheggio a pagamento scogliere, caserma insomma di tanti veramente temi però ci dobbiamo fermare per qualche istante tra poco. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Fano Massimo Serra e andiamo avanti subito con i messaggi. In molte vie è previsto il limite dei 30 km orari nella mia via, via Fanella però questo limite viene puntualmente e sistematicamente disatteso quindi chiedono di poter mettere degli autovelox. Via Girolamo da Fano invece quando sarà possibile avere una pedonale ciclabile? È impraticabile. In fondo alla via insomma dicono che ci vorrebbe anche un semaforo. Quindi questa è un'altra segnalazione. Poi a quando la manutenzione dei passeggi booker, batche, giochi rovinati chiedono anche la possibilità di proibire l'accesso ai cani per evitare urini diffuse e quindi insomma una cosa non molto consona con i bimbi piccoli. Intanto ci sono già delle regole non è che possono essere andare a lasciare i cani liberi ai passeggi vanno tenuti dal guinzaglio o in sicurezza. Fra l'altro alcuni interventi sono già previsti altri con Enel dovremmo installare delle nuove anche panchine tecnologicamente avanzate e su quello ci piacerebbe ne ho già parlato anche con l'assessore coinvolgere anche i bambini attraverso il consiglio dei bambini per farci dare anche delle idee per ripensare e ripensarli però vorrei anche su questo ricordare com'erano quando mi sono insediato e come sono oggi insomma abbiamo cambiato l'illuminazione sono state una serie di interventi io me lo ricordo com'erano mi ricordo anche le pagine di giornale poi bisogna sempre fare meglio però c'è già stato un cambiamento e un miglioramento fra l'altro prima parlavamo di animali di cani che sono delle compagnie straordinarie fra l'altro siamo tutti affezionati me compreso anche su questo saranno previsti una questione di due nuovi sgambatoi a giorni e lì ci siamo presi l'impegno di installarne diversi è un percorso che stiamo facendo ovviamente non possiamo avere tutto subito ecco l'invito che faccio un po' anche ai cittadini di avere anche un po' di pazienza di capirci anche nelle cose che facciamo noi cerchiamo di fare del nostro meglio perché la nostra soddisfazione è quando rendiamo felici le persone contente e soddisfatte le persone che rappresentiamo non siamo qui per fare dei dispetti quindi chiedo alcune volte anche la comprensione di capire le difficoltà che anche noi incontriamo però ecco come vedete stiamo dando seguito a un po' tutto quello che abbiamo detto non sempre riusciamo a rispettare le tempistiche su quello ricordo uno dei primi primo cittadino che un signore in un intervento mi disse sindaco con affetto le do un consiglio non dica mai le date del termine lavori perché rischia di fare brutte figure e devo dire che aveva perfettamente ragione tant'è che da lì poi non l'ha più annunciata no però mi rendo conto quello che dico anche con gli amici vedi arrivo non riesco sempre a rispettare le tempistiche che mi sono dato ma per forza maggiore però quando dico una cosa la faccio insomma su questo poi fanno non è una metropoli è una media città ci conosciamo tutti conosciamo i limiti e le virtù di ognuno di noi quindi la gente mi conosce sa che insomma faccio questa cosa con amore per la mia città e fare il sindaco oggi è complicato perché c'è un nervosismo non è un caso proprio in questi giorni molti articoli giornali sono dedicati ad una mancanza di vocazione per fare i sindaci perché sempre più siamo sotto il mirino di tutti ci sono delle responsabilità ci sono responsabilità denunce su denunce dobbiamo sempre tutelarci non ci tutelano non abbiamo neanche un'assicurazione che ci protegge dobbiamo farcela per conto nostro perché uno non vede tutto quello che sta dietro il lavoro e la responsabilità e lo stress che un sindaco ha ma non dico di Fano un po' di tutti specialmente poi quando ci sono le emergenze e anche su questo vorrei dire che Fano non si è trovata male anche con tutti i momenti di difficoltà siamo sempre usciti alla grande abbiamo dimostrato efficacia e efficienza proprio sabato abbiamo festeggiato i 35 anni della protezione civile del club Mattei che vorrei colgo anche questa occasione per farlo anche pubblicamente ringraziamento per questo straordinario lavoro che non dimentichiamo e di volontariato fanno per tutti noi abbiamo una telefonata per lei sentiamo chi c'è in linea buonasera ci sente? buonasera siamo in ascolto buonasera mi chiamo Catena Massimo abito in via Cavallotti 32 sì sì buonasera volevo chiedere una cosa siccome qui abbiamo un problema tutte le volte che piove ci allaghiamo in questa zona qui della via perché siamo più bassi della strada se abbiamo le territorie più bassi della strada io so che adesso sono state fatte le fogne nuove davanti a casa mia lì davanti le mura Sangallo sono state fatte delle tubazioni nuove sì volevo sapere qui si è risolto il problema dell'acqua oppure siamo rimasti come prima perché il problema è qui dalla parte delle case non è dalla parte di là sì lei da che parte abita di preciso dalla stazione ci allaghiamo dalla stazione venendo verso in via Cavallotti 32 sì dove c'è negozio qui degli africani attaccato a me sì 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 so se è presente dove c'era la vecchia Dodo Video dove c'è la videoteca una volta si abito lì attaccato no guardi allora abbiamo le capitoie lì che sono molto più basse della strada una volta che piove ci allaghiamo sì guardi lì il problema è un problema complesso sono migliorate le cose rispetto a prima anche con l'opera che abbiamo fatto con gli scolmatori che hanno anche in via Pisacane hanno ridotto un po' rispetto a prima ma il problema non è completamente risolto perché lì c'è una pendenza va fatto un lavoro importante che sono circa 3 milioni di interventi complessivi che riguarda tutta la parte anche la parte di via Pisacane fra l'altro adesso abbiamo già stanziato un'opera feognaria di raccolta acqua per la zona di Sassonia che non è lì ma è tutta una rete che comunque va a migliorare comunque il servizio come abbiamo fatto a Lido sono opere significative su questo fra l'altro abbiamo già presentato un progetto e prima parlavo di alcune cifre che ancora non annuncio però in quegli interventi c'è anche questa roba qua che è un intervento importante perché quando riesco a risolvere in modo definitivo anche questo penso di aver risolto tutte le emergenze che la città aveva perché se ricordate c'erano tutta una serie di situazioni che puntualmente ad ogni pioggia partendo da Ponte Sasso arrivando fino a Fosso Seggiore e le altre sono in via di ultimazione le abbiamo risolte tutte con interventi importanti perché poi su queste cose dobbiamo andarci decisi parla di scolmatori vasca di prima pioggia raccolta acqua anche quella dell'Arzilla che adesso andremo a inaugurare questa è l'ultima che è rimasta che riguarda tutta parte di via Pisacani anche qualche mese fa c'era stato un momento di criticità e quella è prevista di un intervento di quasi tre migliori anche se ripeto con gli altri interventi ha portato dei benefici anche a questa zona e riguarda anche come diceva il Signore prima gli interventi che abbiamo fatto hanno migliorato la situazione però non l'hanno ancora risolta Sindaco il Signor Mattioli ci scrive vorrei sapere come mai le ultime due scogliere di Sassogna sono rimaste incompiute lì c'è stato un problema con la ditta inizialmente ci spiegava si guarda questa roba si parla sempre male del pubblico ma alcune volte anche il privato fa arrabbiare su questo non le hanno ultimate però c'è un garantito che ritornano per finirle entro giugno è rimasto poco perché quindi comunque le tempistiche rimarranno sì adesso non sono aggiornato agli ultimi giorni però insomma le informazioni che avevo che mi aveva girato l'assessore erano queste tra l'altro è partita già la gara per quello che riguarda le scogliere di Metauriglia come avevamo annunciato anche quelle stanno andando avanti invece la caserma dei vigili del fuoco siamo pronti io ho fatto tutto da tempo abbiamo già la ditta che lì pronta che aspetta lo start deve arrivare una benedetta firma dal ministero che deve avvallare per l'ennesima volta un ulteriore passaggio tenete conto che ogni passaggio non l'abbiamo condiviso col ministero progettuale di appalto tutto comunque è proprio una mera formalità perché oggi non è che posso messa in discussione una cosa che hanno condiviso tutto e per tutto quindi la ditta è lì che aspetta non so se vogliono fare delle verifiche sulla ditta noi siamo pronti io l'ho sempre detto tutto quello che devo fare l'ho fatto compreso e questo sta in quell'elenco a cui facevo riferimento prima anche le caserne di Gelfuoco da quanto se ne parlava tutti l'avevano andata per persa io sono riuscito e qui mi prendono tutti i meriti insieme all'ex comandante dei Vigili del Fuoco che adesso è in altra sede dove veramente abbiamo fatto un'operazione importante siamo stati bravi siamo riusciti ad avere il finanziamento allora ci dicono intanto in Viale Adriatico dall'hotel Continental al ristorante Giardino dei Sapori sono state eliminate circa 30 posti moto ora ne rimangono soltanto 6 già lo scorso anno si faceva fatica a trovare un posto e quest'anno sarà praticamente impossibile il tutto per due posti auto a pagamento in più suggerisco di ripristinare la situazione con quattro righe di vernice bianca anche a costi irrisori per avere una situazione accettabile quindi ci sono meno posti per le due ruote sindaco questo è una questione vera adesso nei particolari non è facile neanche per me perché poi non le ho seguite direttamente queste cose però ecco il tema delle biciclette delle moto motorini scooter che ovviamente sono molto utilizzate è meglio usare queste rispetto alle auto che ovviamente sono più ingombranti sicuramente va recuperato dello spazio qui parliamo veramente di pochissimi posti macchina di differenza prima di sentire che c'è in linea propongono questo magari questo messaggio lo giriamo all'assessore Brunori che è sempre in ascolto lo sgambatoio a Falcineto dietro Biricocco c'è un campo da calcio chiedono se può diventare anche sgambatoio perché attualmente ci sono molti problemi ci sono clienti anche che prendono sole sulle panchine ignorano i cani quindi lì se si potesse regolamentare un attimo questa situazione intanto va detto che è una struttura in gestione di un'associazione non è uno sgambatoio è diventato uno sgambatoio perché vanno perché si presta c'è una recinzione quindi cosa mi diceva adesso che non ricordo chiedono se il vecchio campo da calcio che si trova lì a Falcineto può diventare uno sgambatoio ecco può diventare perché a tutti gli effetti non lo è lo è di fatto ma non lo è formalmente esatto lo verifichiamo perché ripeto è in gestione di un'associazione quel spazio di una cooperativa dunque chiedono il sottopasso ciclopedonale di via Matelica via Fratelli Zuccare è completo anche il parcheggio è quasi completo anche in questo caso opere di urbanizzazione della lottizzazione copp è più o meno quello che dicevamo prima esatto sia esattamente quella di prima l'illuminazione pista ciclabile Fano Finile quando si a settembre partiranno i lavori per l'illuminazione della ciclabile Fano Finile sempre a Finile insieme alla provincia stiamo procedendo alla progettazione della rotatoria tanto sentita e tanto voluta che finanzieremo il 50% noi 50% la provincia l'illuminazione però ecco è già stata finanziata adesso saranno gli interventi del circuito Marconi dove sono previste l'illuminazione altri interventi al parco di Carrara insomma al parco di Carrara ecco questo tornando a quello che dicevo prima dei quartieri anche quello è uno spazio che abbiamo completamente rinnovato siamo alla periferia della città per cui ecco su Fano Finile ci tengo perché è un impegno che mi ero assunto lì ricordo insomma la ciclabile l'abbiamo realizzata noi insieme e qui porto anche il merito di quando ero assessore in provincia insieme anche la presente amministrazione con cui avevamo lavorato anche abbiamo asfaltato molte strade insomma interventi ne abbiamo fatto anche in quel quartiere dovremmo avere un'altra telefonata per lei buonasera 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 dovrei parlare col sindaco per favore sono qui l'ascolto sì dunque avete fatto un bel lavoro tra Corso Matteotti e la rotatoria i giardini che avete sistemato via Nazario Sauro sulla liscia avete fatto un bel lavoro coi giardini puliti tenuti bene speriamo che continuino così però vorrei chiedere anche Viale Cairoli che ci sono quei trispugli di oleanti che non li abbiamo mai visti fioriti io sono molto vecchia e mi ricordo come ero in giardinetti Viale Primo Maggio che non c'è un marchio piede agibile noi siamo completamente fuori non siamo nel centro siamo periferia cosa siamo? i marciapiedi di Viale Primo Maggio lei non so se la conosce quella strada come no? la conosco ma ecco è una strada con un traffico tremendo noi ci siamo nati lì in marciapiedi non c'è ne è un agibile dobbiamo camminare in mezzo alla strada io sono venuto su tante volte mi sono stancato di parlare col mese perché nessuno risponde c'era il vice sindaco quella volta quando venivo su io e non si poteva fare niente e non si è fatto mai niente perché non si fa mai niente il Viale Primo Maggio? allora la signora ha perfettamente ragione come su altre cose mi sono preso qui in trasmissione degli impegni fra l'altro c'era anche un ordine del giorno firmato votato penso all'unità del Consiglio Comunale che prevedeva la progettazione di una serie di marciapiedi probabilmente non è solo il Viale Maggio c'è a Carrara, Cucurano Rosciano Torrette Ponte Sasso insomma sono tante i marciapiedi non è un piccolo intervento è un intervento che anche insomma risorse richiede risorse importanti la messa in sicurezza per i pedoni però lì c'è un tratto dove c'è una densità e va fatto un impegno che mi prendo con le tempistiche che purtroppo ho perché non è che posso andare in ufficio e dire tu adesso mi fai quel progetto stanno facendo altro e non sono in grado di farlo però in un tempo ragionevole di progettarlo e prevederlo per quello che riguarda Viale Cairoli gli oleandri io non ho il pollice verde qui quando intervieni perché intervieni quando intervieni perché non intervieni insomma è complicato però su Viale Cairoli vi do un altro annuncio l'avevo già fatto in precedenza però adesso stiamo quagliando nel senso definendo anche con la firma insieme a RFI perché firmeremo nell'arco di un paio di settimane due settimane penso di tempo perché abbiamo già concordato con RFI romane l'accordo per i due sottopassi e qui quando io faccio dico i miei viaggi romani io vado a fare queste cose qua poi rimango in silenzio finché non sono sicuro e ho chiuso quando ho incontrato anche la viceministra Bellanova ero andato per tre cose una delle tre era questa e oggi lo posso dire che finalmente chiudiamo i due sottopassi di Via Nazario Sarri e di Viale Cairoli adesso Viale Cairoli starà chiuso per alcuni giorni perché stanno facendo la paia di intenzione però è solo una prima intervento perché verrà completamente rifatto con un intervento che sono oltre 4 milioni di euro e con una piccola copartecipazione in Comune di Fano di 500 mila euro il resto sarà tutto a carico di RFI questa è una buona notizia che ci consentirà di proseguire anche tutto il lavoro di riqualificazione della Darsena Borghese sono partiti come avete visto anche quello diventerà un altro angolo di grande suggestione di bellezza della nostra città quando dicevo la città che cambia e questo è un altro di quei percorsi ci sarà anche un sottopasso in modo tale che potrà essere questo collegamento anche pedonale e suggestivo tra il centro storico e il mare prima di sentire chi c'è in linea per un'altra telefonata le chiedono la strada che passa davanti ai vigili del fuoco arriva a Belgatto dovrebbe continuare per Pesaro lì si sa nulla ma in realtà c'è un tratto chiuso però in quel momento che pare possa proseguire per Pesaro però non è così se non ho capito male è la nuova bretella che abbiamo inaugurato che arriva a Belgatto e questo forse fa riferimento ad una possibile complanare che arrivi a Pesaro però qui parliamo di opere importanti su cui ancora si discute tra l'altro qui c'è un problema che deve esserci anche un accordo tra le città non può essere un comune sento tanti discorsi tutti parlano ma con atti concreti atti concreti significa mettere le risorse vere quelle importanti e qui si devono muovere anche chi ha delle rappresentanze nazionali perché per fare una complanare occorrono 150-200 mila euro e è chiaro che nella regione sono risorse ingenti sentiamo chi c'è in linea buonasera buonasera ci sente? si pronto buonasera pronto? si buonasera l'ascoltiamo la sentiamo buonasera sono ingegniero Guccione Spanni buonasera faccio questa domanda al sindaco sono abitante del centro storico nel 2016 quando avete fatto la via dei ciliesi avete tolto 50 posti macchina più o meno e ci avete promesso ero presente alla regione che aveste preso in considerazione delle ipotesi di diciamo abbonamento annuale per i residenti ora non solo non ci avete dato nulla dal 2016 ad oggi ma avete fatto tutti i parcheggi blu nella zona circostante e mentre a Lido avete promesso e concesso che gli abitanti e residenti del posto possano con un abbonamento annuale utilizzare i parcheggi blu da noi non è possibile cosa che succede in tutte le città del centro d'Italia a cominciare dalla vicina da Pesaro da tutta l'Emilia a Romagna questo succede in tutte le città d'Italia perché a Pesaro allora è un tema vero serio sulla quale qui lo dico senza nascondermi dobbiamo metterci la testa e fare un ragionamento complessivo per tutta la città però va anche notata una differenza perché dobbiamo le analisi vanno fatte complessivamente perché non possiamo guardare solo un pezzo perché ognuno di noi fa un'analisi sulla parte che lo riguarda e di interesse in modo particolare le Fano c'è una differenza rispetto a Pesaro Senigallia Fano è la città che ha meno stalli blu i riferimenti che hanno fatto sono tutti stalli blu voi andate a Pesaro perché adesso tanto siamo tutti qua abitiamo qua mi dite dove c'è uno stallo bianco Pesaro sono tutti stalli blu al mare all'inizio del lungomare no e anche alla fine pochissimi il resto l'80% sono stalli blu andiamo a Senigallia il 90% sono stalli blu vediamo a Fano il 40% sono stalli blu ma numeri alla mano non perché noi andiamo a sensazione bisogna contarli adesso dico 40 anche io sono andato a spanne perché l'assessore ha i numeri precisi però è vero che magari su lungomare molte persone non hanno un garage il problema è uguale dappertutto allora va fatta una riflessione complessiva di una politica dei parcheggi perché chi sta nei centros storici ovviamente ha dei disagi e devono avere delle opportunità come si faceva riferimento per quelli che hanno che si prevederanno per i due mesi estivi per lungomare che poi questi diventano benefici perché avere l'abbonamento ti consente una maggior agibilità nel trovare lo spazio rispetto a quando sono stalli bianchi dove è più facile trovare posti libri però la signora Ragione va ripensata una politica complessiva degli stalli blu abbinate anche con le chiamiamole agevolazioni o con queste attenzioni per chi ha delle peculiarità come avvengono nelle altre città però va tenuta conto anche la reale differenza che c'è tra noi e le altre città poi c'è un altro tema che va aggiunta la necessità di avere almeno un altro parcheggio importante multipiano intorno al centro che dia una risposta come c'è noi abbiamo solo il Van Vitelli che è molto comodo e proprio a ridosso ha impiegato per entrare nella mentalità dei fanesi ma io sono uno di quelli che ne soffrisce e posso garantire che è comodissimo è più comodo del cercare parcheggio degli stalli blu però ecco c'è la necessità alcune idee ci sono ci sono ovviamente ditte che fanno questi lavoro con dei progetti però ecco tornando all'ingegnere Guccione che ha fatto questa domanda dice delle verità ed è un tema adesso l'assessore competente adesso la lasciamo in pace perché sta per poco diventerà mamma quindi dobbiamo tutelarla e farle grandi auguri perché è la cosa più bella che possa capitare diventare genitori quindi adesso diamoli e lasciamo in pace questi giorni e facciamo vivere felicemente questo bel momento però ecco ce l'ho presente questa cosa e dico anch'io forse l'ho trascurata troppo e merito una maggiore attenzione allora Sindaco abbiamo pochi minuti ancora siamo arrivati al ponte del 2 giugno ormai le attività turistiche stanno ripartendo i turisti che vengono nel territorio di Fano Sud Metauriglia Torrette Ponte Sasso si trovano uno spettacolo degradante con erba alta e anche totale incuria quindi questo più che altro per Aset poi ci sono state diverse segnalazioni negli anni che finalmente insomma hanno avuto un seguito una di queste riguarda la rosa di venti che insomma sono iniziati i lavori se non sono terminati dovremmo avere anche una fotografia che un telespettatore ci ha inviato ieri se non sbaglio domenica e quindi anche qua è quasi completato bisogna riconoscerci che c'è stato un cambio di passo anche nelle piccole attenzioni lo ricordava anche prima la signora dell'attenzione dell'Aiuole lì all'ingresso del centro stiamo anche in queste ore in questi giorni ci sono interventi anche sul sottopasso di Ponte Sasso insomma anche a Torrette a giorni dovevano partire alcuni piccoli interventi sempre per abbellire e sistemare in atteso ovviamente del grande intervento del Waterfront dove li destiniamo più di 4 milioni di interventi quindi saranno interventi significativi e fortemente visibili però ecco le critiche giusto che ci siano perché bisogna sempre guardare le cose che non vanno però bisogna riconoscere che c'è anche tante cose che stanno andando come devono andare anzi tante cose stanno migliorando fra l'altro interverremo anche sulla passeggiata dell'Isippo legata anche al nuovo centro di ricerca internazionale verrà allargata la passeggiata e ovviamente non riusciamo a farlo adesso per l'estate non andremo a disturbare i bagnanti però posso dire che anche qui ci sarà un intervento anche impegnativo ma renderà quella parte più attraente poi anche i guardrail insomma sono tanti in 14 punti della città che sono stati sostituiti questo è un sbaglio Fosso Segiore stiamo quello dovrebbe essere Fosso Segiore sì stiamo sistemando anche lì dovevamo farlo lo scorso anno però insomma stiamo arrivando vorrei chiedere a Sindaco se è prevista la realizzazione di un ponte pedonale ciclabile che unisca il parcheggio dell'ex chief alla pista ciclabile Fano Pesaro perché insomma anche per consentire l'accesso sì guardi quella era una previsione che era stata fatta nelle previsioni urbanistiche da chi mi aveva preceduto però era legata ad una lottizzazione realizzazione dell'hotel Vittoria che però non sta andando avanti quindi prevedeva quello e il nuovo ponticello il ponticello l'abbiamo fatto con la regione lo scorso anno l'avete visto tutti quanti e questo c'è sulla carta ma non c'è nella previsione concreta di opere da fare e ha fatto bene a rimetterlo in mente perché effettivamente quello è strategico sia per la sicurezza sia per la comodità perché evita di attraversare il ponte dell'Arzilla per scendere giù poi per la stradina quindi non so rispondere nelle tempistiche però nelle cose che vanno fatte le chiedono il casellino di Finile anche quello sono andato quella volta uno dei tre argomenti era anche questo e qui la situazione è questa io sono convinto che si farà il casellino non so dire le tempistiche perché sta nella convenzione nell'accordo stato-regioni già finanziato non ha avuto attuazione perché il progetto originario ha avuto il diniego della via dell'impatto ambientale però la nuova proposta è quella di un casello ridotto appunto a casellino come c'è quello a Pesaro Sud e la procedura deve essere avviata dalla regione non può essere il comune io sto sensibilizzando tutti quanti perché sono il primo ad essere interessato che è una prima risposta anche del collegamento Fano Pesaro comodissimo e quindi sto lavorando in questa direzione ho sentito anche gli amministratori regionali sono tutti favorevoli l'assessore regionale anche lui so che ha fatto una missione a Roma quindi cerchiamo di fare sinergia e accelerare questo processo cioè far riprendere l'iter per la sua realizzazione una signora che ci tiene tanto mi ha contattata nei giorni scorsi per chiedere questa questa possibilità dai palazzi di via Corelli qui siamo a San Lazzaro chiedono panchine nel parco di via del fiume ma verso il camminamento che porta ai palazzi di via Corelli perché ad oggi c'è soltanto una panchina ci sono tanti anziani che si ritrovano in quel parco e quindi dicono trascorriamo lì tanto tempo se fosse possibile aggiungere qualche panchina in più quindi nel parco condominiale c'è lì perché dopo sono sottili differenze però per noi diventano importanti differenze se sono condiminali che non sono di competenza comunale non possiamo metterle se sono nostre penso che non di poter dire sì benissimo sindaco abbiamo tantissimi messaggi però il tempo purtroppo tiranno dobbiamo chiudere qua questa questa puntata e questa stagione di primo cittadino grazie a tutti i telespettatori che ci hanno inviato messaggi li leggeremo questa sera e domani con calma per vedere insomma se ci sono anche delle segnalazioni importanti da poter rigirare al sindaco oppure agli assessori di competenza grazie per aver trascorso questa stagione di primo cittadino insieme a noi grazie visto che si chiude il ciclo di primo cittadino facciamo tutti gli auguri di una buona estate che sia un'estate libera che tutti possiamo goderci e recuperare anche non dico il tempo perduto perché il tempo non è mai perduto è passato però di poter recuperare quella socializzazione quella socialità e i nostri operatori anche economici turistici possono giustamente lavorare ce l'auguriamo grazie anche a Riccardo Sora in regia Cristiana Guerra sindaco grazie ancora per essere stato con noi e buona serata a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti